non ce l'abbiamo mai fatta, non ce l'abbiamo mai fatta a essere completamente puntuali con il canzone della settimana ma ci proviamo e bene ragazzi ed eccomi tornato sono Frax con un nuovissimo video sul mio canale e siamo tornati con un altro episodio del canzone della settimana in mezzo a molti cuscini vi sarà piaciuta forse la postazione dell'altra volta? tavolo, cose sappiate che andando avanti migliorerà sempre di più questa postazione e saranno arrivando anche un po' di sorpresine a livello logistico ma non siamo qui per parlare di sceneggiature oggi dobbiamo parlare di musica ho ascoltato un po' di tutto in questi giorni e nell'ultima settimana ci sono molte canzoni che tipo oh mio dio cioè ci sono rimasto proprio sotto tantissimo e sono tre voglio anche riprendere cosa che inizierò a fare in ogni mio video sempre a fare una vecchia cosa che ho inventato io lo posso dire questo lo posso proprio dire e cioè apro a caso Instagram adesso l'ho aperto lo riapro perché se no non ce li vedete lo apro Instagram vado sulle notizie vedo l'ultima notifica che me l'ha mandata Alessandro Gibertini ti saluto Alessandro Gibertini per aver messo like alla mia ultima foto e inizierò a salutare in ogni video la prima notifica che ho su Instagram in quel momento quindi dovete essere attivi su Instagram se volete comparire nel prossimo video su Instagram e quindi seguitemi su Instagram guardatevi le stories anche perché a breve ci sarà una specie di possibilità di vedermi se siete a Milano o vicino Milano in modo molto figo quindi rimanete sintonizzati sulle stories di Instagram e su Instagram quindi passate qui sotto è tutto in descrizione comunque mi chiamo IMFrax lasciate like al video perché il canzone di settimana deve avere molti mi piace perché se no io poi mi demoralizzo e non li faccio voi non siete contenti non scoprite nuove canzoni e tutti quanti siamo scontenti bastava semplicemente cazzo che lasciaste un like cioè dai fatelo bella Alessandro Gibertini o che mi metti like allora la prima canzone della settimana è mia l'ho diciamo tra virgolettissime scoperta io tra l'altro non è della settimana ma la conosco da prima che uscisse dalle stories su Instagram di questo artista e poi quando è uscito il video insomma l'ho visto tipo nelle prime 10.000 visualizzazioni quindi real fan di questa persona che adoro veramente tanto che ha fatto anche un album da poco uscito veramente valido pieno dei canzoni di Cristo ma sarò qui a dirvi questa canzone che tra l'altro non fa parte del suo album ma bando alle ciancio e ciancio alle bande stiamo parlando di chi? stiamo parlando di Schimask The Slump God un nero cazzuto tatuato in faccia con tre sette sul naso amico dei XXX poco de meno dei Tentacion aka Tentacion che ancora non ha capito nessuno si chiama XXX Tentacion cioè lui si pronuncia così se sono conosciuti è Argabio lui Schimask e Tentacion Argabio sono tutti tutti amici e bam canzoni fighe eccetera ha fatto sia la canzone che il video che sono fighissimi proprio tantissimo anche infatti il video lo metterò in overlay e quindi lo vedrete anche voi ma andatevelo a vedere bene perché è veramente veramente figo e la canzone pure è un po' particolare un po' più movimentata più ritmica ma veramente figa la canzone si chiama Catch Me Outside e non How about that ma solo catch tra l'altro non è cash ma è catch e la andiamo a sentire insieme purtroppo non ho le casse so sfigato ma la sentiremo dal telefono ah e purtroppo non c'è su Spotify questa canzone o almeno ancora non c'è perché se ci fosse stata la varia aggiunta alla mia playlist la playlist della canzone della settimana vi lascio qui sotto in descrizione il link della playlist perché tutte quante le canzoni che andremo a sentire nel canzone della settimana sono state sempre sempre precedentemente inserite nella playlist su Spotify quindi se la volete sentire prima che comunque ne parli su YouTube andate su Spotify così che è instant e la aggiorno quando scopo canzoni tra l'altro due di queste canzoni che saranno qui su YouTube non ci sono nella playlist perché non sono su Spotify quindi bella per Spotify qua ragazzi è stupendo arte pura prima quando c'era anche il video e apparsa sotto una scritta se vi state chiedendo cos'era era il lyric diciamo il testo di quella canzone in quel momento perché dice watch me spin in a 360 quickscope or something cioè guardami spinnare no girare tipo fidget spin in a 360 quickscope che cos'è 360 quickscope stiamo qua noi call of duty cioè ma dai blur te i tuoi trickshot cioè 360 quickscope capito or something quindi ho anche qualche altra cosa bella per schimask the slump god bella per catch me outside andate a sentire il link è in descrizione la batteria è scarica ci vediamo tra un attimo che cambio la batteria per me saranno 20 ore per voi un secondo neanche ci desiamo dovrebbe essere tutto funzionante non ho dovrei aver rotto niente ci dovremmo essere passiamo invece adesso alla canzone della settimana che però mi avete consigliato voi perché nello scorso episodio non c'era perché effettivamente boh non ero rimasto in fissa con niente dei commenti che mi avete scritto nonostante fossero stati tanti tant'è vero che vi invito di nuovo a commentare qui sotto scrivendo la vostra canzone della settimana perché li leggo tutti i commenti e le ascolto tutte le canzoni che mi dite tranne quelle che già conosco e che quindi già so come so questo artista l'avevo visto su spotify ok non l'avevo sentito bene o comunque l'avevo ascolticchiato quando mi è stata consigliata più volte ho deciso di andare ad approfondire questo artista di riascoltarlo ancora più volte fino a che mi sono innamorato di questo artista è veramente spacca un botto cioè è tipo nato l'altro ieri e sta facendo bei numeri si chiama Killi la sua canzone è Killi Mongiaro ma no ma occhio perché dopo ci sarà un'altra canzone ancora quindi aspettate a schippa il video brutte merdacce e vi assicuro che questa canzone nei primi ascolti può non risultare così tanto fica come dice Frax ma date meretta ascoltatevela qualche volta e vi assicuro che non uscirà più dalla testa questa canzone ma pure quella dopo che ascolteremo sarà così quindi occhio la canzone e il video di Killi Killi Mongiaro è questo qui andiamo a vederlo insieme sentite questa canzone come parte lenta e poi parte poco male che va a mazza senti eh che va a mazza che va a mazza non cuirla che va a mazza Fidatevi di me, ascoltatela qualche volta Sta canzone è devastante Devastante Quindi bella per Killi Ma non è finito qua Perché questa è devastante Non avete ancora sentito quella dopo Che indovinate un po' di chi è? Sempre di Killi Questa qui quindi mi avete portato voi a Killi Mongiaro E poi ho scoperto io quest'altra canzone Che tra l'altro è l'altra che ha fatto lui Almeno di video su Youtube Quindi mi dovrò fare poi una cultura su Killi Magari ne riparleremo in futuro meglio Per ora conosco queste due canzoni In totale se io sincerità come sta ve dico Ma quest'altra canzone pure è una figata Stiamo parlando di Distance Altra canzone di Killi Che andiamo ad ascoltare subito Papapapam Questa mi piace da morire Mi fa impazzire Iscriviti Eeston, hangman e messages? Shouty do the mad through the distance Ballo's he got to pack he efficient I'm only with the opposition I don't think you really know the feelin' See me as a hero or a villain Probably gon' see me on the building Penthouse higher than a mountain Handy bottle sippin' by the fountain Big bankroll in my backpack Black rain roll when we pull up Doing shit I never would imagine Woke up in the hills with a bad bitch Daddy girl money livin' lavish Getting to a cut the city's harvest No one couldn't say hi to Patrick Kill him and go coming on in the planet Totale, bella per Killi ma bella pure per voi che mi seguite Che continuate a vedere questi video Che siete così tanto affezionati a questa serie Vi assicuro che in un periodo triste e oscuro di Youtube In generale nella mia vita Il canzone settimana e tutte quante le persone che mi chiedono Ma il canzone settimana, ti prego Francie, è bellissimo Lo vogliamo sempre, tutti i giorni fai la canzone del giorno Quindi vi amo a tutti quanti voi Vi giuro mi siete super mega di aiuto Vi voglio benissimo E lasciate un mi piace, aiutatemi a far crescere un po' di più questo video Magari condividetelo Che cazzo ne so, non so se funziona ancora nel 2017 Condividi i video Però se bevate fallo, fatelo Seguitemi su Instagram, guardate le stories, i post Lasciate like, siate attivi Vi amo Ciao 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 Ciao